Bene ragazzi, volevo commentare questa notizia sul discopolo di Mirone, molto interessante perché è molto importante l'aura per esempio di Benjamin sulle opere d'arte. Quindi secondo alcuni questa statua dovrebbe essere tenuta a Monaco di Baviera perché niente meno che Adolf Hitler l'aveva comprata. Ma uno si potrebbe chiedere allora, a parte l'assurdità della proposta che sarebbe assurda anche se l'avesse comprata, non lo so, Hegel. Ma poi soprattutto sono cose vecchie, cioè si sa benissimo che la gioconda di Leonardo da Vinci era fatta da Leonardo da Vinci in Italia, in Toscana, però è tuttora presente a Louvre in Francia. Quindi proprio essere diciamo filologicamente corretti perché magari qualcuno potrebbe dire ma perché l'opera d'arte va fruita dove è stata composta, no? Per mantenere la aura alla Walter Benjamin è possibile. Però allora dovrebbe essere portata questa statua in Grecia dove è nata da Mirone il discopolo dentro un tempio della Grecia antica o anche dell'attuale Grecia. che potrebbe rivendicarlo mentre attualmente il discopolo di Mirone si trova in Italia.